allora oggi siamo venuti sugli alture di alghero lì c'è portoconte e questa è una casermetta del complesso dell'arco di contenimento di montedoglia fa un caldo pazzesco e qua siamo proprio il sentiero all'ombra ma per arrivarci qua c'è una bella scarpinata qui troviamo i resti di questa casermetta ecco questa è la casermetta ce l'ho già entrato parecchio tempo fa semplicemente una piccola postazione finisce qui questo è un altro ramo in un altro locale è qui dove è andato Oggi si va a dove c'era la postazione vera e propria ecco adesso prendo la luce e scendiamo da sotto ecco e qui c'era il punto di osservazione ecco lo vedremo poi anche da lì fuori il punto era sopra elevato c'era un pianetto e sicuramente c'era anche una scala per poter accendere accedere giù di sotto una tavola dell'impalcato era appunto appoggiato lì penso che fosse solo una postazione appunto di osservazione ecco dall'alto si presenta così questa è dove eravamo noi prima qua c'è il tunnel tutto il tunnel sotterrario e questo è il tetto della postazione queste scale prestare bene attenzione perché ci sono questi sei gradini poi sotto c'è il vuoto c'è il vuoto di 6-7 metri per cui è un attimo e la visuale ce l'avevano da qui ecco questa era la feritoia passiamo molto più a valle e questa è un'altra postazione questa è un'altra postazione in pietra come vedete è tutto immerso nella visualizzazione quindi molto difficile da vedere e da raggiungere ci dovrebbero essere anche proprio delle batterie qua perché ce l'ho già stato ma diciamo che non le scorgo quindi spero di trovarle è un'altra postazione in pietra è un'altra postazione in pietra